Ciao, in questo secondo video ti parlo di un altro concetto relativo al video precedente, che si tratta del concetto veramente di essere la persona che non parla ma che agisce, non essere questa persona che parla ma che agisce, quello che fa, perché il problema è che non impari nulla finché ti metti a parlare di una cosa, tu la devi fare, la devi realizzare, non devi passare a parlare, devi passare a fare, ad agire, agire è l'unica maniera di ottenere dei feedback e dei miglioramenti, quello che fai, ad esempio una conclusione di uno stagione di parlare, io farò questo, questo, no, devi agire, devi realizzarti, devi veramente ottenere e devi fare, agire, non è l'unica maniera per migliorare, per avvicinarti alla classe di mondo che vuoi arrivare ad essere, perché finché parli non impari nulla, quello che leggi, tutte le cose che stai imparando, lo devi applicare, era per interiorizzare, ricordate che la mente inconsciente vuole risultati, vuole che dimostri sicurezza, vuole che dimostri che quello che stai facendo ha un valore vero, reale, ciao al prossimo video! Grazie! Grazie!